Un pesante attacco personale e istituzionale alla figura del Vescovo di Nuoro, Monsignor Mosè Marcia, del parroco della cattedrale Don Giovanni Maria Chiesa e in genere a tutta la Chiesa Nurese. Sotto accusa tutto il mandato del Vescovo, in particolare la questione della novena in onore di Nostra Signora di Valverde, che quest'anno per problemi organizzativi non si è tenuta. E per l'attacco hanno scelto di nascondersi dietro un volantino anonimo che è stato diffuso ieri in città, la vigilia del saluto che la comunità ecclesiale nurese intende esprimere nei confronti di Monsignor Mosè Marcia, che dopo otto anni lascia la diocesi per essere collocato in pensione. Domenica prossima infatti si insiederà ai vertici della Chiesa Nurese Monsignor Antonello Mura, attuale Vescovo di Lanusei, nominato da Papa Francesco. Non è la prima volta che Monsignor Marcia finisce nel milino di documenti anonimi, che ne hanno criticato la gestione della Chiesa Nurese, di alcuni appuntamenti religiosi o scelte organizzative. Una polemica invece alla luce del sole, con tanto di raccolta di firme, è stata quella dei comitati che si opponevano a alcuni progetti di ristrutturazione dell'altare ottocentesca della Cattedrale. Lavori che poi sono stati realizzati tenendo conto della storia dell'architettura della Chiesa di Santa Maria della Neve. Ieri per manifestare solidarietà al Vescovo di Nuoro e al Parroco della Cattedrale, la Chiesa di Santa Maria della Neve ha ospitato un incontro spontaneo di parrocchiani e fedeli nuresi, che con loro gesto di vicinanza al massimo rappresentante della Chiesa, Barbaricina, hanno voluto respingere con una testimonianza personale l'agile di chi invece utilizza i volantini non firmati per attaccare persone e istituzioni nascondendosi dietro l'anonimato.